Clemen Cebul è arrivata questa vittoria contro Latina, una gara mai in discussione, siete stati bravi a mettere in difficoltà soprattutto in ricezione la Ninfa? Sì, siamo stati bravi dal primo e dall'ultimo punto, abbiamo spinto tutta la partita, abbiamo dimostrato che questa è la Lube, così si gioca la nostra pallavolo e abbiamo superato. In questa serie contro Latina avete avuto qualche problema, direi solo in gara 1? Ma sì, in gara 1 è stata un po' difficile, diciamo, a tutta la partita, però abbiamo visto che non possiamo giocare così come la prima, siamo andati lì, la seconda, abbiamo giocato bene e anche questa terza abbiamo giocato la nostra pallavolo e abbiamo vinto. Adesso si pensa alla gara di Champions, fondamentale di mercoledì. Sì, assolutamente, adesso andiamo in Ancara a vincere questa seconda partita, speriamo che va tutto bene, pensiamo adesso all'Ancara. Ok, grazie.